Oh, splendida! Sei proprio bravo, Tasty? Ancora! Ancora! Scherzate? Le gambe mi cedono! Forse dovrei fermarmi! Vampo in bici, Tasty! Puoi stare in forma se ti alleni! Mi prendi in giro? E poi pedalare fa davvero tanto bene! Beh, se lo dite voi, ascolterò il consiglio! Ammettilo! E va bene, è vero! Così impari a dire che sono una fifona! Scusa, non lo dirò più! Per te serve, ho sempre la시다! Grazie!